Siamo qui, Piacere, Mac, io passando di qua ho visto un plastico stupendo che riproduce due torri. Queste due torri sono in classe A, il contesto è sì molto molto esclusivo, sono due torri che prendono sempre il nome di Wave, Gold e Platinum Tower. Gold e Platinum sta a significare del riflesso, diciamo, dei giochi di colore. Quindi io credo che sia duopo da andare appunto nei cantieri delle due torri.